Perché continuare a morire di alcol e di droga sulle strade? Questo è stato il tema al centro dell'incontro pubblico svoltosi presso l'Aula Consigliare del Comune di Agropoli, nell'ambito del progetto La Fucina, promosso dal gruppo Logos e Famiglia in Gioco. I problemi connessi al consumo di bevande alcoliche sono in continuo aumento e mutamento e sono anche tra le cause principali degli incidenti stradali, con esito purtroppo spesso anche funesto. A parlarne ad Otto Channel è il dottor Aniello Baselice, membro della Società Italiana di Alcologia. Occorre che gli utenti della strada siano innanzitutto responsabili che l'80% degli incidenti è dovuto al fattore umano. Il fattore umano significa essere in una situazione in cui rispetto al consumo di farmaci, droghe, alcol, livelli di stanchezza e altre condizioni psicofisiche necessarie, l'utente della strada, l'automobilista, sia capace di essere consapevole del livello di rischio che in cui incorre se non è in condizioni psicofisiche idonee. Poi c'è la responsabilità sociale istituzionale attraverso l'intensificazione dei controlli, attraverso una diffusa e capillare opera di informazione e sensibilizzazione. È necessario avviare azioni scelte coerente a promuovere una nuova cultura sociale e sanitaria, volta alla promozione della salute personale dell'intera comunità, da qui anche l'importanza dei club territoriali. Noi come pubblica amministrazione, come comune, come autorità dobbiamo fare tutto il possibile affinché questo messaggio passi e sia sempre più decepito da tutti quanti.